Ciao a tutti, salve, benvenuti alla nuova puntata di Leggera Euforia, stasera come ho scritto su Facebook abbiamo una bella notizia, almeno quella che io considero un'ottima notizia per tutto quello che è il mondo antipredizionista, perché c'è stata una dichiarazione di tre capi di Stato, finalmente tre attuali capi di Stato e non tre ex Presidenti come spesso era capitato precedentemente, cioè capi di Stato attualmente in carica, sempre dei paesi latinoamericani, perché lì diciamo che si è mosso ultimamente di più quella che era un po' la spinta alla divisione delle politiche ONU e delle politiche mondiali sulle droghe e quindi la dichiarazione è di capi di Stato di Colombia, Guatemala e Messico, vediamo un po' perché c'è un messaggio, vediamo se Donato mi deve dire qualcosa, togli l'audio alla pagina di libri tv, ma io togli l'audio, a me sembra averlo già tolto e non riesco a entrare nella chat, quindi più di così non posso fare, allora spero che mi sentite, io non riesco a vedere la chat perché come spesso accade non so come mai non mi riesce di reinserirmi col mio account che è di Nadina e quando siamo in trasmissione non mi riesce, se poi anche Donato mi chiama su Skype per farmi i messaggi, alla fine non ci riesco più niente, si ti sentono, ok bene grazie, allora questi tre capi di Stato attualmente in carica che sono il Colombia, Guatemala e Messico e i nomi sono Calderon, Felipe Calderon del Messico, Santos della Colombia e Molina del Guatemala, si sono rivolti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e quindi si sono rivolti direttamente all'ONU, facendo seguito un po' una serie di comunicati, conferenze, azioni compiute attraverso sia la Global Commission che attraverso droghe e democrazia, facendo seguito a una serie di azioni abbastanza incisive, però forse un po' scordinate che ci sono state finora sul fronte di un cambio di strategia nelle politiche sulla droga, finalmente c'è stata un'azione un po' più strutturata istituzionalmente perché qui sono tre Presidenti, tre capi di Stato attualmente in carica che si rivolgono all'ONU ed è una cosa che è destinata a avere comunque un qualche peso perché non è che l'ONU può del tutto far finta di non rendersene conto, questo è un tentativo di dialogo estremamente civile e corretto, supportato da dati, da evidenze, supportato da un'argomentazione e quindi non potrà certamente del tutto non tenerne presente un organismo collegiale come è tutto sommato l'ONU. E quindi si sono rivolte all'Assemblea Generale dell'ONU criticando apertamente la guerra alla droga ed evidenziando l'urgenza di compiere una riforma a livello delle Nazioni Unite. Oggi gli stessi tre Paesi hanno pubblicato anche una dichiarazione congiunta presentata in una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite che traduce questi sentimenti in una richiesta coordinata per le Nazioni Unite perché si riveda il sistema attuale e per analizzare tutte le opzioni disponibili comprese le misure di regolamentazione e di mercato. La dichiarazione dei capi di Stato di Colombia, Guatemala e Messico sulla revisione delle politiche e delle droghe delle Nazioni Unite. I governi, dice in questa dichiarazione, sono convinti che la criminalità transnazionale organizzata e in particolare la violenza che genera nell'esercizio delle attività criminali costituisca un grave problema che compromette lo sviluppo, la sicurezza e la convivenza democratica di tutte le Nazioni e che le Nazioni Unite debbano affrontare con urgenza il problema, dichiarano, noi dichiariamo, che l'uso delle droghe illecite è un potente incentivo per l'attività delle organizzazioni criminali in tutte le regioni del mondo, che nonostante gli sporsi della comunità internazionale nel corso dei decenni, l'uso di queste sostanze continua a aumentare a livello globale, generando reddito notevole per le organizzazioni criminali di tutto il mondo. Grazie alla disponibilità di enormi risorse finanziarie, le organizzazioni criminali trasnazionali sono in grado di infiltrare e corrompere le istruzioni degli stati, che è essenziale attuare misure efficaci per bloccare gli illegali flussi di armi nelle organizzazioni criminali e qui vediamo che si affronta anche in maniera diretta il problema del mercato illegale di armi molto legato a quello della droga, così come legato a quello di esseri umani, fino a quando non verrà interrotto il flusso di droga e armi alle organizzazioni criminali, queste continueranno a minacciare le nostre società e governi e qui appunto si sottolinea l'identificazione fra quelli che sono i gruppi dei narcotrafficanti e i gruppi cosiddetti terroristici, nel senso che poi praticamente a livello di commercio fra di loro sono le stesse identiche persone, che di conseguenza è urgente rivedere l'approccio finora mantenuto dalla comunità internazionale in materia di droga, in modo da affermare il flusso di denaro prodotto dal mercato illecito di stuprocenti, che questa revisione dovrebbe essere condotta con rigore e responsabilità su basi scientifiche, al fine di creare efficaci politiche pubbliche in questo settore, che le nazioni dovrebbero intensificare i loro sforzi per rafforzare ulteriormente le istituzioni e le politiche di ciascun paese, per la prevenzione e punizione del crimine, i loro programmi sociali in materia di istituzione, salute, tempo libero e occupazione, così come la prevenzione del trattamento e della dipendenza per preservare il tessuto sociale, che gli stati dovrebbero confermare il loro impegno a combattere con determinazione e in base al principio della responsabilità condivisa e differenziata gruppi criminali trasnazionali attraverso meccanismi di cooperazione internazionale, che le Nazioni Unite dovrebbero esercitare la loro leadership come da mandato per condurre una profonda riflessione per analizzare tutte le opzioni disponibili comprese di misure di regolamentazione o di mercato al fine di stabilire un nuovo paradigma che blocca il flusso di risorse al crimine organizzato. A questo proposito i governi della Colombia, Guatemala e Messico inviteranno gli stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, ad avviare più presto un processo di consultazione che consenta, a luce dei limiti della politica attuale e della violenza generata dalla produzione, traffico e consumo di droga nel mondo e crediamo che questi risultati dovrebbero culminare in una conferenza internazionale che permetta di ascoltare le decisioni necessarie al fine di realizzare strategie più efficaci e strumenti con cui la comunità internazionale possa meglio raccogliere la questione della droga e delle conseguenze ad essa legate. Questa è una traduzione dell'appello dei tre presidenti che è uscita oggi anche sul sito del parito radicale non violento, transnazionale e traspartito, è una dichiarazione di due o tre giorni fa e sicuramente ci sarà un tentativo di in qualche maniera silenziarla o non renderla pubblica più di tanto, però ha la sua importanza e il suo rilevo e bisognerà anche che qualcuno poi all'ONU ne tenga conto perché cominciano ad essere tante le voci dei tre presidenti, attualmente i presidenti dei tre paesi ampiamente coinvolti in quelli che sono i disastri del narco world da una parte, della world on drugs e dall'altra, sono comunque una voce di un certo peso e di una certa autorevolezza. Poi continuiamo sempre su, o se no cambiamo, poi torniamo dopo su questa dichiarazione dei tre presidenti, c'è invece una notizia non tanto simpatica dalla Spagna, forse ricordate ne abbiamo parlato mi sembra a maggio-giugno, quel paesino Raschera, quel paese spagnolo che voleva introdurre una coltivazione di cannabis, affittare per risolvere i problemi di debito del comune di Raschera, affittare dei campi a un social club di Barcellona mi sembra che voleva coltivare cannapa e produrla per il consumo interno al club. E qui c'è un'intervista che è uscita in spagnolo, settimanale spagnolo, un'intervista al sindaco di Raschera che purtroppo ci racconta come un po', non dico ancora andata a finire, ma come sta proseguendo un po' l'azione. L'inizio di luglio il giudice civile di Tarragona ha sospeso in maniera cautelare il progetto della piantazione di cannabis in Raschera a seguito di un ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato, col quale il comune si è stato obbligato a per il momento sospendere una proposta in questo campo, una proposta di questo genere. Così lo ha confermato il sindaco di Raschera che ha spiegato che già 15 giorni fa avevano ricevuto un'offerta da un'impresa svizzera che voleva piantare cannabis attraverso la partecipata municipale per estrarre essenze per la fabbricazione di birra e profumi. Purtroppo dice il sindaco, tutto è paralizzato, io non posso, è già la quarta o quinta impresa che mi chiede di poter affittare questi campi oltre all'originario Cannabis Club di Barcellona, ma ci sono anche delle imprese sia olandesi che svizzere, racconta il sindaco in questa intervista, che hanno chiesto di poter usare questi campi, purtroppo lui si è visto tutto bloccato e quindi non può per il momento sfruttare questa situazione. Siamo in un processo giudiziario e vedremo come la classe politica affronta tutto questo, dice il sindaco, perché il suo piano anticrisi basato sulla piantagione di marijuana continua a essere per lui principalmente un'opportunità economica. Si parla tanto di economia e di strutture di Stato che bisognerebbe tener conto come di un'opportunità economica. D'altra parte ha ammesso anche il sindaco che finiva il suo mandato nel 2013 che il processo in corso potrebbe anche risultare, annullare completamente il suo piano. Credo che una parte della decisione politica, bisogna affrontare questa realtà, se le leggi attuali non sono capaci di affrontarla sicuramente bisognerà fare nuove leggi, ha aggiunto. E quindi si è presentato un ulteriore ricorso contro questo blocco e comunque per il momento, visto che comunque il discorso era importante per loro, questa proposta era ruota fuori dalla possibilità di creare 40 posti di lavoro e di ricevere 1,3 milioni di Euro dall'associazione in due anni, cioè l'associazione Cannabis Club di Barcellona avrebbe pagato 1,3 milioni di Euro, quindi non specifica le altre imprese svizzere e olandesi quanto sarebbero state disposte a pagare, però molto probabilmente si parla di cifre simili che sarebbero servite a sanare completamente il bilancio dei debiti del municipio che evidentemente sono molto alti e preoccupano molto il sindaco che giustamente aveva trovato questo sistema di potersi in qualche modo autofinanziare e automatenere. Allora è poi uscito un… invece per quanto riguarda l'America, in America il dibattito sulla marijuana è molto attivo anche dopo il referendum californiano che purtroppo è fallito, però il dibattito è rimasto abbastanza attivo e sempre sulla spinta naturalmente anche di quello che viene un po' dal centro e verso l'America, però anche internamente specialmente avevamo già visto noi questa estate il sindaco di New York, mi sembra il governatore dello Stato di New York che si erano schierati a favore della legalizzazione della marijuana, insistendo principalmente sul fatto che quello che è il predizionismo di classe, cioè che alla fine poi quelli che finiscono in carcere per i due grammi di erba la maggior parte delle volte sono persone appartenenti alla comunità nera, alla comunità afroamericana, alla comunità latinoamericana, ci sono le persone già più svantaggiate che poi si ritrovano a subire le conseguenze maggiori e quelle più devastanti della guerra della droga e su questa linea Richard Branson che è uno dei componenti della Global Commission ed è anche un dirigente della Virgin, ha rilasciato ultimamente un'intervista dicendo che la politica sulle droghe delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti è una guerra alle persone nere, è una guerra ai neri e la politica in America è veramente una guerra contro i neri, l'85% delle persone che vanno in prigione per uso delle droghe in America sono neri e quindi questo è un problema che le leggi vanno cambiate e noi abbiamo soltanto ottenuto circa un milione e mezzo di persone in America che sono rinchiuse in carcere semplicemente per aver consumato droga e questo naturalmente è sbagliato, bisognerebbe aiutare se hanno dei problemi di droga, cioè se c'è una dipendenza, se c'è bisogno di un aiuto dovrebbero essere aiutati da un punto di vista sanitario ma bisognerebbe abolire le sanzioni semplicemente per il consumo e quindi poi c'è tutta un'argomentazione in questa intervista e comunque è un'altra voce che affronta un punto di vista completamente diverso da quello che abbiamo visto del sindaco spagnolo che si interessa più che altro a quanto può fruttare una coltivazione di marijuana, di canapa, quanto può fruttare la comunità e qui invece abbiamo un altro punto di vista più sociale delle conseguenze del proibizionismo perché dubbiamente queste conseguenze negative si accaniscono molto più sulle persone che già sono in condizioni di disagio e sugli ultimi problemi cosiddetti e poi abbiamo visto anche spesso come si lega il discorso poi per chi è malato di HIV e di ADS e tutti i problemi legati a questo perché naturalmente se finiscono in greva devono interrompere le cure, non hanno più assistenza e questo tra l'altro è l'argomento del secondo rapporto della Global Commission che spiega appunto in quanti in tali modi la guerra della droga possa aumentare e incrementare la pandemia di HIV e di ADS appunto per una serie di motivi fra i quali appunto il fatto dell'introduzione delle cure quando uno entra in carcere, un'altra per esempio è la paura che il tossicodipendente o comunque il consumatore affetto da HIV o da ADS, il timore che può avere a rivolgersi alle autorità sanitarie per essere curato, cioè la paura di essere schedato, segnalato alla polizia e poi di finire in qualche maniera a pagare penalmente il prezzo di quella che è in effetti una malattia e non un reato. Poi vediamo un po' 21 e 33, andiamo ancora una decina di minuti, ci sono delle notizie abbastanza buone anche da una parte del Canada, la British Columbia che ora ve la leggo su tutte le notizie che sono uscite oggi e quindi ve le porto fresche fresche e ve le traduco lì per lì mentre le guardo anch'io, a volte questo magari diciamo che in qualche maniera non giova alla chiarezza di per lì, però per lo meno spero che giovi all'attualità di quello che vi racconto e quindi oggi proprio è uscito questo articolo sulla British Columbia che è una parte del Canada, una parte che è situata a est del Canada, la scorsa settimana i delegati dell'insieme dei comuni della British Columbia hanno votato in sostegno alla decriminalizzazione e trassazione della canapa. Questo voto è stato in accordo, ha seguito i principi di una campagna molto attiva in British Columbia in quest'ultimo periodo che auspica la decriminalizzazione del possesso di marijuana, l'uso regolato di questa, per esempio la predizione per l'uso dei minori, come del resto si fa dice nell'articolo per il tabacco e per l'alcol e è un appello al governo federale perché autorizzi la British Columbia a investigare come sarebbe meglio poter passare questo tipo di legalizzazione. Naturalmente questa mozione è definita un po' controversa naturalmente perché è sempre stata controversa anche nel passato, però è uscito un sondaggio ultimamente spiega l'articolo nel quale si vede come la maggioranza dei British colombiani sostengono la legalizzazione del possesso di marijuana, così come la maggioranza dei canadesi, anche se la percentuale sulla costa occidentale è maggiore rispetto a quella dell'intero Canada. e simultaneamente comunque la British Columbia si oppone e anche nel sondaggio la popolazione diciamo è molto meno favorevole alla legalizzazione delle altre droghe. E quindi questo è un altro paese dove evidentemente in ogni caso questo non è un vero cambiamento di legge però evidentemente è in atto un dibattito e questo dibattito sta cercando di arrivare un po' all'attenzione anche di quello che è il governo federale perché poi naturalmente c'è un governo, mi immagino perché io non conosco molto bene la situazione politica del Canada, però è un po' come una regione voglio dire, molto chiaramente non è che la regione della British Columbia può decidere da sola di cambiare strategie o politiche di questo genere però ha rivolto un appello così come del resto i presidenti su un alto livello, i presidenti che abbiamo visto Guatemala, Messico e Colombia hanno rivolto invece un appello all'ONU e a un ente sovranazionale. C'è tutto in qualche modo riferirsi sempre ai livelli più alti perché naturalmente le politiche sulle droghe è poi una delle obiezioni che vengono poste anche per quello che riguarda l'Uruguay e il Sud America e il Centro America e che se non sono le stesse in tutti i paesi raramente possono avere una vera efficacia e dovrebbero più o meno seguire che poi il motivo per cui abbiamo avuto delle convenzioni ONU sulle droghe le quali tutti i paesi sono stati invitati e pensati anche in qualche modo ad aderire proprio perché si è pensato che evidentemente le strategie sulle droghe dovessero essere le stesse per tutti i paesi del mondo. La Global Commission invece sostiene con qualche fondamento logico che ogni paese presenta dei problemi diversi e quindi può ben essere lasciato libero anche di sperimentare diverse strategie e diversi approcci anche perché i paesi possono essere tanto per cominciare produttori o consumatori o di transito come prevalenza e questo già fa la sua bella differenza perché i problemi sono diversi anche se poi alla fin fine il fenomeno è lo stesso per tutti perché è un fenomeno umano e quindi riguarda un po' nello stesso modo tutte le persone. Purtroppo in Italia questa invece è una notizia un po' più sgradevole, c'è stato un fermo rispetto alla legge sulla cannabis terapeutica, quella che era stata fatta dalla legione Liguria, si era detto finalmente che siamo già a tre leggi regionali, Toscana, Liguria, Fiuli Venezia Giulia, però abbiamo visto che Fiuli Venezia Giulia in qualche maniera ha scontentato fortemente alcune componenti dell'attuale governo che non hanno visto di buon occhio questo possibile progetto di collaborazione fra il centro di cannabicoltura di Rovigo e istituto per macevoli comunitari di Firenze per la produzione di un farmaco cannabino italiano e quindi hanno tentato di mettere in dubbio, non mi ricordo il termine tecnico, comunque la legge del Fiuli Venezia Giulia. Purtroppo per quello che riguarda Liguria ci sono proprio i debati nel senso che durante un consiglio dei ministri ultimo di due o tre giorni fa il consiglio di stato dei ministri, ora vabbè naturalmente faccio confusione, poi lo retarda, comunque ha impugnato la legge non del Fiuli Venezia Giulia ma quella della Liguria perché sembra che nella parte in cui ha autorizzato i parati galenici in qualche maniera sia in conflitto con delle disposizioni sul livello nazionale. Ancora non è uscito con abbastanza chiarezza la motivazione esatta, questo l'avevo detto anche l'altra volta perché la notizia era proprio di venerdì scorso, ancora non si era avuto un'esatta spiegazione o almeno io non ho trovato del perché in qualche modo si verrebbe in contraddizione con questa legge, ha delle leggi nazionali sulla salute pubblica, però vediamo, aspettiamo sempre spiegazioni e speriamo anche che siano sufficienti e soprattutto che sia veramente un errore da sanare semplicemente e non un tentativo di bloccare quelle che sono queste leggi che sono le prime regioni che le fanno e sono una speranza anche per tanti malati in Italia che spessissimo si rivolgono poi a me ma anche a tante altre persone, alle associazioni Andrea Ticcioglia, Stefano Valbo, a tutti i nostri amici Alberto Sciolari, a tutti gli amici che presiedono le associazioni del settore e si rivolgono tutti i giorni malati che ci chiedono aiuto per poter avere accesso a questi farmaci, naturalmente su prescrizione medica per carità e purtroppo non possiamo mai dirgli niente di sicuro e di certo perché anche nelle tre regioni nelle quali la legge è stata votata e come si vede purtroppo, in Toscana nessuno l'ha messo in dubbio, però comunque non è ancora attuata da un punto di vista pratico, non è che sia facile nemmeno adesso che c'è la legge andare a Firenze in Toscana comunque e avere realmente accesso ai farmaci, è tutta una trafile abbastanza complessa ancora adesso, vediamo che vengono in Toscana addirittura messo in dubbio due leggi regionali già approvate e quindi con un po' la preoccupazione è un po' tanta perché naturalmente sì, è una risposta, è normale naturalmente, ogni volta che c'è un passo avanti in una direzione ce ne sia anche uno in qualche modo indietro, è un po' come su un alto livello in Uruguay abbiamo visto una volta scorsa che c'è stata una proposta, anzi una legge praticamente già in vigore per la coltivazione statale al monopolio di Stato della canapa, si era rimasti che stavamo discutendo 650 ettari, lo Stato proprio ha intenzione di coltivare a canapa e di fornire ai consumatori la canapa proprio di Stato. Naturalmente c'è questa azione molto forte insieme con l'appello dei tre presidenti, anche questa è una azione diciamo di un bel peso da parte dell'Uruguay, anche se un paese piccolo comunque è una decisione veramente rivoluzionaria in qualche modo, anche se è un monopolio, quindi possiamo fare tante critiche, comunque un passo avanti rispetto al prebizionismo, però immediatamente anche si sono elevate critiche, azioni contrarie, appunto la dea che ha deciso di riepire l'ufficio in Uruguay, oggi leggevo poi non potete far stamparla perché ho finito l'inchiostro purtroppo e poi non l'ho più ritrovata la notizia di un altro ufficiale di polizia uruguayano che dice no, assolutamente non è vero niente che c'è, non è vero nulla che c'è questa legge come se neanche esiste, cioè ne nega addirittura resistenza quando è uscita fuori l'agenzia, da diverse agenzie, non da una sola, ed effettivamente invece la legge è stata votata e quindi evidentemente come minimo c'è un tentativo di resistenza a queste politiche, diciamo in qualche modo rivoluzionaria da parte di alcuni paesi, adesso sono le 21.43, a me dispiace molto non essere riuscita a seguire la chat, però c'è sempre qualcosa che non funziona e quindi non sono riuscita a seguire le domande perché non riesco ad entrare nell'account della chat, poi quando chiuderò naturalmente ci riuscirò, sarà un affare semplice, però diciamo come ultima notizia eravamo rimasti l'altra volta che si diceva come poi di fronte a tutti questi spinti ragionevoli e di fronte a tutti gli evidenti danni che la War on Drugs ha portato e che ormai vengono riconosciuti a tutti i livelli da tutti quanti, quello che si fa invece da parte degli enti antidroga e anticrimine è di magnificare grandi catture e imprese nelle quali si riesce a devastare persone che vengono definite dei kingpin, che sarebbero proprio dei punti nodali della criminalità organizzata in tutto il mondo, quindi vi dicevo di tutta una serie di arresti che c'erano stati in Venezuela, non so se ve lo ricordate, ve lo avevo raccontato l'altra volta, è loco con tutti i loro vari soprannomi pittoreschi che si sono dati e l'ultima notizia era di lunedì, c'era stato l'arresto dopo l'ultimo signore del narcotraffico, il più grande trafficante mondiale del Golfo, dopo tutti questi che già erano stati arrestati, però questo era definito ancora più importante il mega criminale galattico ed è soprannominato El Taliban, soprannominato El Taliban perché? Perché aveva imparato dai talebani la tecnica dell'uccisione per sgorzamento col coltello, che è una tecnica particolarmente cruenta e particolarmente dolorosa per chi lo subisce, perché lo sgorzamento non è rapido e immediato, ma viene eseguito con successivi colpi di coltello, vabbè vi risparmio poi tutti i particolari che sono abbastanza tucidi, viene da avvidere, però è pochissimo da avvidere perché veramente la violenza che va di pari passo con il fenomeno della criminalità organizzata del narcotraffico, cioè veramente fa parte proprio il crimine del commercio stesso in questo caso, quando si parla di commerci illegali è ovvio che intorno a loro espandono una serie di ondate di violenza, perché è un commercio del quale fa parte l'uccisione del concorrente, perché non si fa una concorrenza leale su quello che può essere il prodotto migliore, ma la concorrenza viene fatta su chi è più forte, chi ha più armi e chi risulta vincente poi in determinate faide, battaglie, eccetera, eccetera. E con questa ultima notizia io direi che per questa volta, vabbè continuano, prima volevo anche ricordarvi che continua l'azione di Vita Bernardini che sta continuando a coltivarsi le sue belle piantine in terrazza e nonostante che sia io che altre persone su Facebook abbiamo più volte messo addirittura l'album delle piante di canapa di vita sul profilo dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia, di tutti e nonostante questo evidentemente non interessa a nessuno, le forze dell'ordine hanno più interesse andare a prendere una piantina a casa magari di un ragazzo di vent'anni che ha provato a farsi una pianta anche semplicemente per l'esperimento che non di andare in qualche modo a indagare sul perché e sul per come una deputata dello Stato italiano, deputata del Parlamento italiano e della Camera abbia nel terrazio di casa sua sette piantine di canapa. E quindi con quest'ultima attrazione io vi saluto, vi do la linea e a venerdì prossimo scusatemi se non ho seguito la chat, cercherò di fare meglio la prossima volta. Ciao! Ciao!